Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ben ritornato nel nostro nuovo appuntamento con l'informazione. Torniamo a parlare della Bologna Città 30 perché mentre non si placa la polemica da una parte tra il sindaco Matteo Lepero e dall'altra tra il dicastero di Matteo Salvini, staremo a vedere naturalmente che cosa comporterà per il provvedimento la nuova direttiva ministeriale. Ex politici, ex amministratori dicono la loro ovviamente su questo provvedimento che sta interessando tutti i cittadini bolognesi. Fresco ad esempio di rientro dalla Spagna, l'ex assessore della giunta Guazzaloca Enzo Raisi ha sparato a zero sulla Bologna 30 con colta citazione iniziale. Ecco Raisi, lei è appena tornata a Bologna dalla Spagna e siamo in piena Bologna Città 30. Sì, confermo la mia opinione che è una boiata pazzesca anche perché poi ci sono delle condizioni oggettive. Il Comune è il primo inadempiente sul traffico. Quando citano le città all'estero che hanno preso questi provvedimenti che, ripeto, poi peraltro sono parziali su alcune zone della città come Valencia, non totali, lo fanno perché hanno un trasporto pubblico eccezionale. Qui il trasporto pubblico a Bologna fa schifo, e bisogna dirlo, sono stati presi i provvedimenti per migliorarlo, tipo la tramvia e il passante, e cosa fa il sindaco? Non aspetta la realizzazione della tramvia e del passante, ma la fa in piena opera della tramvia e del passante, quindi complicando maggiormente la cosa. Oltretutto, qualcuno fa polemica, il mio amico Merola, sull'intervento a gamba tesa del Ministro Salvini, che ha fatto una direttiva interpretativa, fra l'altro prendendo spunto da sentenze di tribunali, che dicono sostanzialmente che non si possono generalizzare questi tipi di provvedimenti di limitazione delle velocità. Ricordo, in questa città, che forse qualcuno ha una memoria corta, che la mia giunta, la giunta Guazzalocca, riuscì a ottenere il finanziamento per il progetto dell'Ombria e dell'Ombria e dell'Ombria e dell'Ombria e dell'Ombria e dell'Ombria e dell'Ombria, aspettò, perché così prevedeva la legge, il parere non vincolante della regione, poi questo non arrivava perché Errani faceva il furbo e non voleva darlo perché c'erano lezioni, e questo fa sì che Errani fece ricorso e noi perdemmo il progetto della metropolitana che oggi avrebbe soluzionato molti problemi di traffico a favore di Brescia e fu un'entrata a Gambatesa. Allora io dico che è meglio che si ricordino tutta la storia, perché se dici che entri a Gambatesa Salvini ricordi che tu sei stato il primo a entrare a Gambatesa, ma la verità è che qui c'è uno scontro culturale. Come diceva giustamente l'altro giorno un professore universitario in TV, qui ci sono due modi amministratari, uno è il tipo autoritario che si va avanti con ordinanze di vieti e l'altro tipico ad esempio dei modelli di liberale democrazia dei paesi del nord Europa che invece per ottenere gli stessi obiettivi usano l'educazione e premiano chi ha un comportamento civico e che cerca di fare il bene comune. Io preferisco il secondo modello, quello non autoritario. Tra modelli culturali, dietrologie eccetera, insomma la polemica destinata ad estendersi. A proposito di autovetture, è allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna ancora, dove sono state estese fino a lunedì 29 gennaio, compreso, le misure emergenziali per la qualità dell'aria. Fra queste ricordiamo lo stop ai veicoli diesel Euro 5, provvedimento che comunque rientra tra quelli previsti a livello regionale in base alle misure dotate dalla regione Emilio-Romagna e appunto collegate al piano sull'ambiente e sull'aria Emiliano-Romagnola. Passiamo ora alla cronaca, ricorderete l'incredibile e terrificante episodio in dicembre in via Castiglione quando Eugenio Santoro, 53 anni, fu aggredito da un gruppo di giovani ferito in modo grave, un uomo che ora rischia l'invalidità permanente, è scattata la denuncia alla polizia ma ai nostri microfoni la vittima fa un nuovo appello per cercare testimoni dell'accaduto. Sono stato accerchiato da queste persone, assediato e mi dicevano tu sei ritenito infortunato, chiedici scusa e altre cose che onestamente adesso non mi ricordo perché ecco. Allora io ho detto a loro guardate che sono cardiopatico perché io purtroppo ho avuto anche un infarto, guardate che insomma di cosa devo chiedere scusa, cosa è successo e mentre cercavo un dialogo civile con queste persone che avranno avuto all'incirca 30 anni meno di me, uno da lontano oppure uno di loro non ricordo, non ricordo, mi dà una spinta violentissima alla spalla sinistra proprio per farmi cadere e sono caduto, sono caduto e ho avuto una frattura della spalla e anche del tibia, perone. Eugenio Santoro, 53 anni, racconta l'aggressione subita in dicembre in pieno centro a Bologna. Mentre con un amico stava passeggiando in via Castiglione ha incrociato un gruppo di giovani. Dopo aver chiesto loro di passare Santoro è stato poi inseguito e aggredito. Tornato a casa si è recato all'istituto ortopedico Rizzoli, da qui è scattata la denuncia alla polizia. La prognosi in infiale è stata 30 giorni, volevano subito ricoverarmi per fare un'operazione quasi urgente perché eravamo sotto Natale, era il 22 dicembre 2023 alle ore 18.05 in via Castiglione. Ripeto questo perché sto cercando dei testimoni, perché nonostante abbia fatto querela che poi è partita d'ufficio, perché il secondo referto ha detto che sono 40 giorni di proniosi, quindi è già partita d'ufficio. Ci sono delle persone che devono rispondere di questo reato, di queste ipotesi di reato, chiamiamo così, perché sono stato inseguito, ne hanno fatto di più. È stato anche derubato, le hanno porto via qualcosa? No, 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 assolutamente, assolutamente no, perché insomma c'era gente, passavano le auto, c'era gente, hanno voluto solo picchiarmi e basta. Dalle nostre telecamere ha poi rivolto un appello. Io con ogni probabilità rischio l'invalidità permanente e farò valere tutti i miei diritti da un punto di vista penale e anche ovviamente civile. Voglio semplicemente dire a queste persone costituitevi, perché state peggiorando la vostra situazione e chi conosce queste persone è il loro complice. Un episodio davvero incredibile. Cambiamo argomento. Il giro di presentazione dell'ultimo rapporto Censis fa tappa delle nostre parti, dove il ministro Marina Calderone torna a parlare di modello Bologna. Il dopo Covid non ha lasciato solo una coda psicologica e civica, ha anche fatto registrare una prolungata fase di crescita in fatto di occupazione. È il dato più significativo emerso dal rapporto Censis, declinato in chiave bolognese, discusso tra gli altri oltre che dal segretario generale Censis, Giorgio Derita, anche dal cardinal Matteo Zuppi, dal sindaco Matteo Lepore, dal rettore Giovanni Molari, dal ministro Marina Calderone. Il grande tema qui è quello ovviamente di reperire le risorse umane necessarie per coprire tutti i posti di lavoro che ci sono, quindi accanto a questo c'è anche il tema della formazione, della qualificazione e anche della, se volete, formazione in termini di apprendimento continuo anche per quelli che è poi la fascia dei lavoratori over 50. Però io direi assolutamente che c'è un modello Bologna che dà una dimensione anche di un concerto tra istituzioni, parti sociali e soprattutto anche mondo della formazione che è estremamente importante. Uno sguardo allo sport col basket sconfitta in Eurolega per la Virtus che cade a Istanbul contro il Fenerbahce. Un'altra sconfitta a Istanbul per la Virtus che perde contro il Fenerbahce 88 a 75. Senza Scengheli e Belinelli, oltre a Dobric, la squadra di banchi cade nel terzo quarto dopo un primo tempo equilibrato, dove le vonere avevano anche toccato il più nove e concluso sul 52 a 47 per i padroni di casa. 23 punti per Motley, trascinatore dei suoi. Dall'altra parte in casa bianconera a 17 sono quelli di Lundberg. Non sono bastati per ratrizzare la partita né per conservare la differenza canestri. All'andata era stata più otto per la Virtus. Il Fenerbahce ha giocato con più continuità lungo i 40 minuti, ha spiegato alla fine il coach Banchi. E noi abbiamo rimpianti per come siamo entrati in campo nel terzo quarto. Ci aspettavamo che aumentassero di aggressività e fisicità, ma non siamo riusciti ad affrontarli. Questa è la disamina dell'allenatore bianconero al termine della partita. Domenica il prossimo appuntamento in campionato alla Segafredo Arena arriva Napoli. E torniamo alla cronaca perché c'è stato un altro incidente stradale mortale sulle nostre strade in località Quinzano. Siamo nei territori del comune di Loiano quando un'auto a bordo della quale viaggiava una coppia di anziani per causa del vaglio dei Carbinieri è uscita di strada mentre percorreva Via delle Vigne, vettura che è precipitata in un burrone per i due anziani, marito e moglie, entrambi 82 anni residenti a Bologna, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero delle salme. è un altro doppio incidente stradale mortale da registrare sulle nostre strade, anche se in provincia però il risultato ai noi non cambia. Parliamo ora di televisione perché la transizione completa alla nuova TV digitale non è ancora ultimata. Serviranno altri anni perché tutti gli italiani adeguino il proprio televisore ai nuovi standard e quindi possano ricevere attraverso la nuova tecnologia alla massima qualità i programmi più desiderati. Con questa notizia quasi di informazione di servizio terminiamo il nostro telegiornale e vi ringraziamo di averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. E-TV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.